C'è stato lo sceglimento del Consiglio Comunale, è mancato il numero legale, adesso si torna in aula a lunedì. Oggi è stato un incidente di qualcuno che è arrivato in ritardo, quindi non è un tema politico quello di stamattina. Lunedì sarà una giornata dura, difficile, ma proveremo il bilancio, perché questo serve alla città in un momento di pandemia, è da irresponsabili pensare di consegnare la città al baratro, ci manca solo una città senza guida, senza servizi garantiti, sarebbe il crollo definitivo della città, quindi sono convinto che alla fine ci sarà quel numero necessario di consiglieri comunali, tanto di maggioranza e di opposizione e con responsabilità, bene comune e amore per la città daranno il contributo per l'approvazione di un bilancio tra l'altro importante che consente alla città di reggere in questi mesi che saranno così difficili, quindi lunedì porteremo a casa i risultati.